continuano a rimanere bassi. In Spagna, molto più facilmente, una parte del costo di questa crisi energetica le pagano le compagnie energetiche e in questi anni non sono più compagnie statali, ma sono compagnie private a capitale grandemente pubblico. Però c'è una cosa che è una questione. Questo è il mondo che piace a lei, ma in questo mondo davanti qui si trova. No, Draghi, cosa doveva fare? Cosa non ha fatto? Cosa ha perso di vista? Guarda, io ho una maglietta che è molto, diciamo, esplicita, quindi tutto quello che dico può essere riassunto così. Tassare i ricchi. Cioè, nel senso, qui non si capisce che effettivamente questa crisi energetica sarà la prima perché c'è un mondo con 5 miliardi di persone che vuole spendere, consumare, mangiare, vivere come vivono quei 3 miliardi di persone che consumano la maggior parte dell'energia della terra. Tabacci! Ma non so, tassiamo i ricchi, bisogna poi anche...